amici buongiorno a tutti io sono michele e benvenuti su mcarp oggi continuiamo i nostri i nostri suggerimenti continuo a darvi alcuni suggerimenti prendendo spunto dai social di danny februs quindi di corda ma prima sigla terzo suggerimento abbiamo parlato di antitango l'abbiamo parlato di amia punta dritta spinner e anche long sunk x long sunk x e spinner sono due ami perfetti utilizzati con il corda di rig kicker quindi questo accessorietto qua che ormai non riesco più a fare a meno allora la montatura anzi il terminale finale diventa così quindi con una girellina sulla d molto semplicemente si va ad inserire adesso vi faccio vedere come si fa e diventa una di perfetta allora rispetto questo fondamentalmente si può definire uno spinner rig con il diri kicker rispetto al classico spinner dove la girella è montata direttamente sul sul gambo del lamo il diri ci permette di mantenere l'esca e l'amo separati e questo quindi consente al lamo di capovolgersi più velocemente il diri su spinner ok qualcosa abbiamo preso forse si preso incalata capiamo cos'è o qualcosa c'è prima non capisco cos'è non capisco cos'è ma una mica una tartaruga viene verso di me viene verso di me cos'è Un pesce gattone, un americanone, peccato. Un pesce gattone, eccolo qua. Un americano, ok, se lo rilasciamo. Purtroppo ragazzi, era un pesce gatto, anzi no, scusate, era un piccolo piccolo siluro, e niente, quindi continuiamo con la nostra piccola lezione. Ragazzi, sono stato interrotto da un piccolissimo siluro, ma eccomi qua di ritorno. Allora, stavo dicendo che oggi prendiamo in considerazione il D-Rick Kicker, invenzione di corda, ma in realtà poi ce ne sono anche di altri marchi, ho visto Ridge Monkey che già l'ha presentato, avid altri altri marchi. Allora, il D-Rick Kicker su spinner non è altro che un connettino in gomma, eccolo qua, che vi permette quindi, senza nodi, senza dover bruciare le estremità del nylon, vi permette di creare in maniera molto semplice e rapida un D-Rick. Niente, non c'è pace, adesso abbiamo la blu con una piccola calata, ma niente. Allora, niente di fatto, niente di che. sempre boiless alla banana, quindi attira, attira la banana, diciamo che quest'anno va di moda. Allora, quindi vi stavo dicendo che D-Rick Kicker vi permette di tenere separata l'esca, quel tanto che basta dal lamo, in maniera tale che l'amo, cioè quindi questa distanza consente, stavo guardando qua, consente al lamo di capovolgersi nella bocca della carpa in maniera più veloce. sicuramente è un pesce, un altro pesce di disturbo, proviamo a ritornare a noi. Allora, scusate, ma vorrei farvi vedere anche una bella cattura, che forse è ancora più interessante, però al momento pesce di disturbo, silurini, quindi sembra tutta questa roba qua. Allora, quindi il D-Rick Kicker vi permette quindi di tenere separati l'esca dal lamo. Questo facilita quindi una rotazione super veloce del lamo e si spera sicuramente più allamate. Ecco perché un consiglio sarebbe quello di utilizzare sempre il D-Rick sia sul pop-up che su esche bilanciate. E eventualmente anche l'affondante io non ci vedo nulla di male, però per prassi solitamente si utilizza su bilanciate e pop-up. Un'altra comodità del D-Rick, di questo tipo di D-Rick, è la possibilità di poterlo riutilizzare. Allora, mettiamo caso che l'amo si spunti con un D-Rick tradizionale, purtroppo dobbiamo rifare l'intero terminale. In questo caso invece ci basta, se abbiamo un ardiglione, lo possiamo con le pinze stringere e poi facciamo uscire l'intero tubettino e possiamo inserirlo in un altro amo, oppure senza ardiglione è ancora più semplice e veloce. E questo è sicuramente un bel vantaggio che vi permette di rimanere sempre in pesca e in maniera anche molto molto veloce. Come si utilizza il D-Rick? Prendiamo il nostro D-Rick kicker, inseriamo dalla parte conica l'anellino. Fate in questa maniera come faccio io, perché è il modo più semplice e veloce. Guardate. L'anellino è già entrato. A questo punto tagliamo questo pezzettino in più, questa parte conica in più. Eccolo qua. E andiamo a prendere il nostro amo. In modo veramente elementare, quindi semplice. Inseriamo l'altra estremità. E ci troviamo in questa situazione. Così. A questo punto In maniera molto molto veloce Prendiamo La nostra girellina spinner Lo inseriamo nel gambo del lamo. E una delle cose più complicate qui è andare a farsi volare il conetto Sulla Sullo spinner fondamentalmente, sulla girella spinner Allora, questo Io l'ho già utilizzato E quindi entra anche In maniera abbastanza semplice Eventualmente Eventualmente Potete Utilizzare O potete con la saliva Quindi bagnare con la saliva E utilizzare La maglietta In modo tale Che così non vi scivoli Il vantaggio del kicker È che anche con esche affondanti Vi potrete Troverete l'esche Quindi qui davanti E quindi il peso È tutto sulla punta Quindi sulla parte davanti Del lamo E questo permette Una migliore rotazione Una migliore penetrazione Oggi ragazzi Mi sono un pochino dilungato E quindi mi fermo qua Mi raccomando Se siete amanti del carfishing come me Appassionati Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Così sarete sempre aggiornati sugli ultimi video Ogni venerdì alle 18 Un nuovo video E alla prossima Ciao